Come presentare il nuovo comandante e come salutare il comandante Primavera? Ho appena salutato i due ufficiali che si alternano qui al comando provinciale, ho tributato loro tutta la nostra riconoscenza, due alti profili professionali e quindi ci sarà sicuramente certezza di una continuità di azione del comando in un territorio, in una realtà socio-economica che merita una particolare attenzione. Cercheremo di continuare sullo stesso percorso già tracciato dal mio pregestore e cercando di assicurare sempre più la sicurezza economico-finanziaria nell'ambito della provincia di Teramo. Sono originario della provincia dell'Aquila, Teramo è una città che sono stato solo poche volte, comunque conosco più che altro la zona ritorranea della provincia. Le direttive particolari sono quelle di cercare di prevenire e contrastare ogni forma di evasione, di legalità e di cercare di essere sempre a favore di coloro che operano nell'ambito della legalità. Oggi i livelli di motività sono veramente alti in considerazione non solo delle generose espressioni di apprezzamento che mi sono state rivolte in particolare dal comandante regionale, ma è una giornata ricca di emozioni perché concludo due periodi, innanzitutto il periodo di comando qui a Teramo che ho vissuto ritraendo grandi soddisfazioni da quest'anno di attività, ma lascio anche un periodo, una stagione lavorativa molto più lunga che l'intera carriera vissuta in guardia di finanza. Cosa importante da sottolineare in questo anno? L'attività di prevenzione. L'attività di prevenzione che è tesa soprattutto a creare un clima di tax compliance, cioè fare in modo che la coscienza etica, civile e anche, soprattutto fiscale, si consolidi sempre di più nella cittadinanza. Quindi è giustissimo, oltre alla repressione, anche alla prevenzione. Ci sono degli importantissimi segnali di ripresa, ci sono degli indicatori macroeconomici che ci fanno ben pensare a una lenta ma costante crescita, anche se non sono ancora molto evidenti e ben consolidati. La Guardia di Finanza, che è un sensore privilegiato in questo senso, deve accompagnare questa crescita con controlli quanto più mirati possibile. Quindi continueremo in questa prospettiva.